Come vedete io non porto la mascherina, normalmente non la porto, ma non perché voglio dire che la mascherina è inutile. Cerco di rispettare le distanze e rispettare quelle regole di prudenza che sono state indicate dalla comunità scientifica che sono state poi tradotte in regole di convivenza civile. Quindi anche qui sulle mascherine io non posso dirvi nulla allo stato attuale perché non sappiamo quella che sarà l'evoluzione e se sarà necessario o no indossare le mascherine. Oggi non è necessario per chi riesce a tenere le distanze e riesce ovviamente a rispettare le indicazioni che sono state date.